San Benedetto Germania. Allora, questa è una delle cose che mi piace della Germania. Questa è una cosa che mi piace qui nel Baden, è una cosa che mi piace nel Pfalz, nell'Asia. Ciao a tutti ragazzi dalla Germania. Ecco, questo che vi faccio vedere adesso è una delle cose che mi piace della Germania. Qua nel sud della Germania, io sapete che sono amante del sud della Germania, la Baviera, il Baden, il Pfalz, eccetera, eccetera. Questo che vi faccio vedere è quello che mi piace della Germania. Qui siamo in una cittadina di, abbastanza grande comunque, e questo qui è la normalità in giro che vi faccio vedere. Cioè, cos'è la normalità? La normalità è che io girando ho tutti i muri delle case che fondamentalmente sono comunque puliti. In giro? Qua in giro, lo vedete? C'è. Non ci sono scritte sui muri. C'è, purtroppo ve l'ho fatto vedere, qui c'è un piteco che ha abbandonato una cosa. Un pochettino non è più così pulita come una volta. Vedete che qualche cartaccia c'è. Però io quando cammino qui, ragazzi, cioè io trovo i muri puliti, i muri li trovo puliti delle case. Cioè, è mille volte meno. Cioè, ci sono anche qui, perché se vai a Berlino, in alcune situazioni, li trovi anche qui. Ma fondamentalmente, vedete, cioè le case non hanno quelle scritte con Zim, Zun, Zan, 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 come mi ho fatto vedere molte volte da noi. Cioè, vai a Milano, non riesci a fare un centimetro, non riesci a fare un metro al di là di fuori dalla piazza principale, che è tutto pieno di Zim e Zun, Zan. Ma lasciamo perdere le grandi città. Parliamo delle... Io l'ultima volta ho sentito a Monza, ragazzi, la zona stazione, tutto pieno di scritte di qui, ma non solo lì, ma anche quando sono andato a Sesto. Cioè, è pieno di scritte. Questa situazione era comunque limitata, era comunque limitata da noi alle grosse città. Oggi ovunque, cioè io vengo qui, in cittadine di 40, 50.000 abitanti, cioè questa... adesso sono qui a Worms, non so quanti abitanti fa, comunque non fa 5.000 abitanti, non è piccolino a Worms, eh. Cioè, e se voi girate qui, vi posso garantire che è pulito, ragazzi, è pulito, cioè, è pulito, i muri sono puliti. Poi qualcosina in giro purtroppo c'è, sì, poi, cioè, guardate, cioè, guarda i muri bianchi qua, come sono belli lindi. Cioè, da noi appena vedono un muro, è crime, scrume, scrame, scrume, scrame, scrume, scrame. Cioè, io giro qua, giro qua, non vedo una scritta sui muri. C'è qualcuno ogni tanto, per l'amor di Dio, guarda il palazzo qui, ma sono tutti ben tenuti, ben puliti. Ovunque, anche quando sono stato adesso, sono stato a Bruzza, 50.000 abitanti. Qua sono nel falso. È tutto pulito. Cioè, i muri sono belli lindi, è tutto pulito, non c'è una scritta. Cioè, tutti i palazzi, prova a guardare. Cioè, questa città qua ha 83.000 abitanti. Cioè, quasi 100.000. Non è un paesino, eh. Non è un paesino, ragazzi. C'ha 83.000 abitanti e mi sa che c'ha più abitanti, non so, di Lecco. Poco meno di Bergamo, cioè, cioè, poi qua, cioè, è un 100.000, quasi 100.000 abitanti. Stiamo parlando di una bella cittadina, eh. Stiamo parlando di, guarda, guarda, non c'è una scritta, vi giuro, non c'è una scritta in giro. Cioè, è pazzesco, è pazzesco. Una camminata di un'ora, avrò visto due scritte sui muri, ma le conto proprio sulle punta di una dita. Su di una mano, scusate. Non c'è una scritta. Cioè, da noi non è così. Cioè, c'è tutta sta roba, sta moda di impastare le case, di rovinarti. Cioè, ma non sarebbe bello un mondo così? Sarebbe bello un mondo tutto così. Qui c'è una zona di parcheggio, guarda, guardati i muri, non sarebbe bello tutto così? Tutto bello col muro, muro, pitturato, senza quei, qui. Cioè, vuoi fare un murale? Sfallo bene, fai una pittura fatta bene, mi ci può anche stare se gli danno un posto per farlo. Ma non tutti quegli scarabocchi lì. Guarda, non c'è una scritta, cosa vi devo dire? Cioè, è che sto scherzando, eh, guarda. Guarda, guarda qua, guarda, 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 ovunque, guarda, tutto fatto. Da noi arrivano addirittura sui balconi, vanno su in alto per farle scritta. Ma anche nei paesini, perché io nell'Interland milanese ho visto addirittura paesini dove ti scrivono tutto sopra là, la gente sale. Cioè, guarda com'è tutto bello pulito. Pazzesco, pazzesco. Cioè, non c'è niente da dire, la Germania su queste cose è veramente un altro pianeta, eh. Cioè, poi vi ho fatto vedere che anche qui qualcosa, oh, guarda com'è tutto pulito.